Io ho già detto credo da sempre quello che penso, penso che bisogna dare la parola ai cittadini e non possono essere burocrati e anime morte romane che decidono in nome dei cittadini. Considero questa cosa una vergogna del nostro Paese, hanno paura della democrazia, hanno paura di dare la parola ai cittadini, voglio però correggere che questa cosa del terzo ma non riguarda la campagna, noi andiamo avanti per i fatti nostri. Sento e leggo sui giornali che la Lega fa la proposta per il terzo mandato per il mio amico Zaia, non è vero, Zaia il terzo mandato lo sta già finendo, non lo deve fare, è per il quarto mandato, il quinto, ma sono cose da pazzi, ma come si fa in questo Paese a non leggere neanche le carte? La proposta della Lega per il terzo mandato, Zaia lo sta finendo il terzo mandato, lo ha già fatto, quindi noi andremo avanti perché non abbiamo recepito la vecchia legge nazionale, quindi da quando la recepiremo scattano i due mandati, quindi noi andremo avanti nei secoli dei secoli.